Buongiorno, buongiorno e ben trovati Buongiorno a tutti dalla redazione di TV6, benvenuti a questo nuovo numero di Mattino 6 in questo mercoledì 22 febbraio 2017, pronti a sfogliare le pagine dei quotidiani locali ma anche a vedere le prime pagine delle testate nazionali, tanti gli eventi di cronaca, tanti i servizi ma anche servizi di sport nel finale di questa nostra trasmissione. Andiamo subito ad iniziare la nostra rassegna stampa con le pagine del centro, delle quattro edizioni del centro poi del messaggero Abruzzo e quindi della città. Qui siamo sulla prima pagina del centro dell'edizione dell'Aquila, il titolo d'apertura però è il medesimo appalti, indagati tre assessori regionali accusati di falso, Pepe, Paolucci e Scrocco per i lavori al parco di Lanciano. Sotto la testata bonifica a rischio per la discarica di bussi, poi le mille panchine di Zeman, il tecnico è a due partite dallo storico traguardo. E poi ancora al centro pagina questa importantissima operazione portata a termine dai carabinieri con il coordinamento della procura aquilana, Andrangheta in Abruzzo, Usura, Roghi e Coca, 19 arresti così il clan calabrese dei Coupari si arricchiva alla Francavilla. E poi ancora lo scontro nel PD, Emiliano resta e si candida a segretario, protesta taxi, Roma, scontri e bombe carta presto il decreto, caso Scazzi, Cosima e Sabrina, confermati gli ergastori. Poi ancora di spalla l'Aquila verso le elezioni, sontaggio PD, ecco tutti in retroscena, Avezzano, il caro affitti fa chiudere anche Benetton, Avezzano, di Orio eredita il tesoretto del Monsignore. Poi ancora in basso, funerali spostati, prete punito, il caso a Sulmona e il vescovo chiede perdono ai familiari della defunta. Gran Sasso, l'Aquila, la seggiovia è fuori uso e non si scia. Prima pagina dell'edizione di Chieti, andiamo a vedere subito di spalla, Lanciano assalto ai gioielli, colpo a Sarni da 200 mila euro. A San Vito, bannatore grave dopo la caduta. Giuliano Tiatino muore dopo le dimissioni dall'ospedale. In basso a Chieti, Megalodo 3, sindaco intercettato, registrato il colloquio tra Di Primio e l'imprenditore Perilli. Vasto lavoro, già 350 le domande per assicurarsi un voucher. Prima pagina dell'edizione terramana, scivola un fronte di 30 ettari, altri sgomberi, si aggrava la situazione per la frana di Ponzano di Civitella del Tronto. Terremoto e rani ordine, adeguate anche le scuole vecchie. Santomero morì a 14 anni, due medici sotto accusa. In basso, nomine alla ASL, in arrivo tre nuovi primari, a giorni banditi i concorsi per altri otto responsabili di reparti. Calcio, lega però il termo sfida il Pordenone. Nel recupero, edizione di Pescara, i richiami, mare inquinato verso un'altra estate di divieti. L'appello, il prefetto si dei comuni ai migranti. Poi troppe multe, Montesilvano si ribella per il semaforo trappola. In basso, Rigopiano, la tragedia era evitabile. I legali del comune di Farindola contro la regione, valanga prevedibile. Poi le racconto, i pompieri così abbiamo salvato i bambini. Prima pagina del messaggero, Abruzzo, ecco l'apertura. Andrangheta, assalto a Pescara. Francavilla, smantellata la cosca che puntava sull'area metropolitana. 19 arresti, i profitti del traffico di cocaina investiti in attività pulite, dai bar alle macellerie. E poi ancora, sotto la testata, Fonte Amara. Santa Croce, sequestrati 20 milioni a Colella. Lega Pro, Teramo in campo, oggi al Bonolis col Pordenone serve il successo. E poi Pescara, febbre da Zeman, all'allenamento 500 tifosi. Il tecnico ha avuto prima il rapporto della squadra per mezz'ora. Il grande ex Zanonori, visto subito il suo calcio, semplice ed efficace. E poi ancora, di spalla, media del 9, la ragazzina fuggita di casa per un solo 7. Non poteva sopportare quel brutto vuoto, pomeriggio di paura. E poi ancora, l'ordinanza, bombe e roghi, la legge della gang. Quindi, in taglio medio, la fotonotizia. Sarnioro, rapina a colpi di mazza, vetrine blindate, spaccate davanti alle commesse. Sempre in taglio medio, a parti sospetti, tre assessori sotto inchiesta. Indagati Paolucci, Pepe e Sclocco, D'Alfonso in Consiglio. Coincidenze anomale. Poi l'Aquila, Gran Sasso, Seggiovia, K.O. E ora vediamo la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Teramo, questo cratere ci sta stretto. Il 2 marzo si va a Roma, ha chiesto l'allargamento ai comuni montani e i benefici pieni nel capoluogo. Poi, sotto la testata, palto masterplan a Lanciano. Altri 10 indagati nell'inchiesta. Santomero, due medici nei guai per la morte di un 14enne. Pineto, medico a giudizio per la morte del baby calciatore. E poi la fotonotizia. Il paese si è spostato a Ponzano, scivolata verso il fosso di 8 metri. 200 mila euro per l'allagamento. Giulianova è il primo conto dei lavori in somma urgenza. Poi di spalla leggiamo D'Alfonso Ascelto, D'Alberto, un teramano all'ufficio ricostruzione. L'appello dei genitori, i nostri figli appesi agli indici di vulnerabilità. E poi ancora personaggi, la stirpe dei maghi del Cerrano a pagina 16 e poi a pagina 17. Lega Pro, Teramo, il recupero contro il Pordenone. E' una sfida salvezza. Lasciamo per qualche minuto le pagine dei quotidiani locali. Andiamo a sfogliare le prime pagine delle principali testate nazionali. Il Corriere della Sera, taxi, gli scontri, poi l'accordo, bombe carta al corteo di Roma. Quattro fermati, il governo decreto entro 30 giorni. La sindaca Raggi si schiera con i tassisti. Sono con voi, inserata la svolta nella trattativa. I nomi e le cose, la sinistra senza merito nell'editoriale firmato da Alberto Alesina e Francesco Giavazzi. Sotto la testata, il bando ora più severo, la stretta sugli immigrati. Ecco le regole di Trump. La candidata all'Eliseo, Marine Le Pen, rifiuta il velo, salta l'incontro con Mufti. Poi ancora di Spalla, storie e volti, la mega stazione tradita dai treni, il paradosso di Afragole. Poi ancora, se per gli sfollati non ci sono, hotel, sisma e stagione turistica. E poi per lo sport, Allegri a Bonucci. Tu resti in tribuna, oggi la Juve in Champions. In taglio medio, Emiliano è la scelta di restare. Sfido Renzi e riunifico il PD. Avanti ancora con la Repubblica. Taxi e ambulanti, giorno di fuoco, raggi in strada. Sono con voi, la protesta a Roma, bombe, carta e pestaggi. Fermati tre neofascisti. E poi ancora, PD, Emiliano resta e si candida. Bersania, l'addio, non mi iscrivo. Renzi in viaggio negli Stati Uniti, vado ad imparare. Poi ancora di Spalla, il caso, i fantasmi di Parigi e Atene sull'Europa. Marine Le Pen è la mossa del velo rifiutato. Avanti ancora con il fatto quotidiano. Che fa Gentiloni? L'Italia è senza governo. Città assediate dai tassisti. Lavori del G7 al palo. Ministri paralizzati dalle risse PD. La Boschi secreta i decreti attuativi perché non esistono. E poi PD, la scissione c'è, ma Emiliano non se ne va più. Bersani fuori, Renzi negli Stati Uniti. E poi in taglio medio, terremoto, i pompieri lo studiano in un secchio. Il comando cratere Umbro, se l'acqua si muove, è sisma. E poi lavoro con la flessibilità, meno assunzioni, il vero bilancio del Jobs Act Flop. Ora la Germania batte noi italiani. Da 11 anni aspetta il nuovo aeroporto. Avanti con il messaggero che parla di Roma in ostaggio. Scontri con la polizia, bombe carta, il lancio di bottiglie, feriti e quattro fermati. Raggi sulle barricate. Sto con voi. Il governo tratta decreto per le auto pubbliche. Giornata di caos e violenza per la protesta dei tassisti. Poi l'accordo. Poi calcio. Roma inizia il tour de force. Totti si prende l'Europa League. Il caso Bebevio minacce sessuali sul web. Che tristezza li denuncio. E poi ancora in basso. Massacrò Varani, 30 anni a Fofo. I genitori di Luca non è giustizia. Per Prato processo in aprile. Poi la nuova l'Italia, modello low cost. La compagnia solo con quelle agevolazioni possiamo farcela. La stampa. Taxi in rivolta. Raggi sotto. Accusa. Polemiche sulla sindaca grillina per l'appoggio ai manifestanti. Intesa con l'esecutivo. Violente protesta a Roma. Bombe carta. Quattro fermi. Inserata l'accordo. Entro un mese nuove regole sul trasporto. E poi PD. Tre condizioni per il governo. Parla Orfini che detta l'agenda a Gentiloni. Emiliano Ressa si candida alle primarie. Bersani d'Alema. Pronti i gruppi. Il mattino. Taxi in rivolta. Il governo cede la trattativa dopo gli scontri e bombe carta. Entro 30 giorni il decreto frena Uber. E poi lo scandalo. Buffera. Festini gay. Il cardinale Sepe sospende il parroco. Avanti ancora con il manifesto. Guida a destra. Tassisti in piazza in tutta Italia. Contro la proroga del decreto che lascia il settore senza nuove regole. Scontri a Roma e bombe carta davanti alla camera. Saluti fascisti. Al Nazareno. Quattro fermati. Raggi solidale ma no alla violenza. Del Rio promette soluzioni. Entro 30 giorni. Avanti ancora con il tempo. Fine corsa. Taxi e ambulanti tra scontri. Bombe carta. Feriti e caos. La raggi e la meloni. Siamo con voi. Città paralizzata. E poi in basso. Facciamo lo stadio. Falcao scrive. Hai il tempo. E l'ex soprintendente. Boccia i tecnici attuali. La prima pagina del giornale. Protesta selvaggia a Roma. Tassisti. Adesso basta. Scontri e bombe carta. Grillo stacono i violenti. Nella notte accordo col governo. 50 clandestini sfasciano un traghetto. E molestano i viaggiatori. Poi ancora sotto la testata. Il PD si divide davvero. L'Italia ride. Ultimo atto della farsa. Emiliano resta e si candida. E dice. Io come il c'è. E poi la contraerea animale. Le aquile moschettiere contro i droni dell'Isis. In Francia. Quattro rapaci antiterrorismo. Con i nomi degli eroi di Dumas. E poi ancora. Dopo lo scandalo UNAR. Tra soldi e ricatti esplode. Il mondo gay. Sono decine. I bordelli omosex. Che ricevono denaro pubblico. La prima pagina dell'unità. Emiliano e Orlando sfidano Renzi. PD via al congresso. Il governatore si candida. E spacca la minoranza. Speranza già lancia il nuovo soggetto. Il guarda sigilli è ormai convinto. L'ex premier. Gli addi addolorano. Ma andiamo avanti. E poi Raggi sta con i fascio taxi. Taxi libero. Questo è il titolo d'apertura. Furti e violenze sul Cagliari Napoli. Clandestini e delinquenti devastano un traghetto. Appena arrivati in porto sono stati tutti liberati. Nonostante avessero il foglio di espulsione. Avessero molestato e derubato i passeggeri. Nonché distrutto l'imbarcazione. Poi gode solo Grillo. Tutti gli schieramenti sono divisi. Il Movimento 5 Stelle conquisterà Palazzo Chigi. C'è l'editoriale di Vittorio Feltri. Le suonate di Emiliano. Trombette, trombe e tromboni. Poi avvenire. Accogliere si deve. Il Papa è un imperativo. Proteggere i migranti. In Libia tragici naufragi. Almeno 119 vittime. Poi ancora rapidamente. Ostaggio dei taxi. Il governo cede. Titola Il Gazzettino. Il secolo XIX. PD Emiliano non lascia e sfida Renzi. Gazzetta del Mezzogiorno. PD Emiliano sfida Renzi. La verità nel governo comanda una lobby gay. E adesso possiamo lasciare le pagine delle testate. Le prime pagine delle testate nazionali. Torniamo su quelle locali. Andiamo all'interno del quotidiano Il Centro. Andremo a sfogliare le pagine iniziando dalla 2 e dalla 3 dove trova spazio all'operazione anti-ndrangheta portata avanti dai carabinieri. Ecco qui. Andrangheta in Abruzzo. Usura. Roghi e cocaina scattano. 19 arresti. Il clan calabrese dei Cupari gestiva bar maneggio e sale per scommesse. La base a Francavilla le vittime punite con incendi. Un tentato omicidio. Cosca di Gioia Tauro. Il boss dava ordini dal carcere Aquilano. Nel penitenziario del capologo di regione ci sono 150 detenuti con il 41 bis. Poi ancora l'Isola Felice si può raccontare ai bambini. Il procuratore antimafia Renzo commenta l'inchiesta. Nessun confidente. Solo investigazioni. E poi ci sono le intercettazioni shock. Con questa testimonianza mi bruceranno negozio e casa. Io di questi ho solo paura. In basso affari marsicani col tesoro del boss. Il precedente dai fondi mafiosi di Ciancimino al complesso turistico. La Conte. Allora vediamo il servizio realizzato ieri dal TG6. Associazione per delinquere di stato mafioso. Questi reati contestati dai carabinieri del comando provinciale di Chieti sotto la direzione della DIA di L'Aquila. A carico di 28 persone destinatari a vario titolo di altrettante ordinanze applicative di misure cautelari. Di cui 10 in carcere, 9 ai domiciliari e 9 non detentive emesse dal GIP del Tribunale Aquilano Giuseppe Romano Gargarella. Su richiesta del PM Antonietta Picardi. Eseguiti nell'ambito dell'inchiesta dell'operazione Design, sequestri preventivi di beni mobili ed immobili per un valore di 10 milioni di euro. Sequestrati anche 10 kg di marijuana. Quattro persone indagate sono ancora attivamente ricercate. E' la prima volta che riusciamo a colpire un'associazione di stampo mafioso dell'Andrangheta in Abruzzo. Una cellula che ha replicato se stessa, Calabrese, che è riuscita a replicare se stessa riuscendo ad attecchire nel territorio abruzzese. E' un'associazione che ha riciclato i proventi che riusciva a prendere dalla droga, che prendeva dalla Lombardia, in particolare da un'altra cellula molto simile in Lombardia. e riempiegava in usura e poi con il ricavato dell'usura e della droga ha investito un grosso capitale in Calabria, in un villaggio turistico che era già stato sequestrato. Francavilla era stata scelta come loro quartiere generale. Oramai non ci sono territori che possano essere considerati immuni, ma questo già da molto tempo si sa. L'Andrangheta soprattutto colpisce laddove non trova territori che siano esenti da altre infiltrazioni della criminalità organizzata, voi che sia la Camorra, voi che sia Cosa Nostra. In questo caso è stata presa Francavilla. Sono stati sequestri per un valore complessivo, approssimativo, chiaramente stimato in 10 milioni di euro. Sono stati sequestri per lo più connessi a delle società che a loro volta avevano in proprietà o avevano affittato dei locali, delle piccole attività commerciali in Abruzzo, a Francavilla. E il grosso di questo sequestro è stato relativo al villaggio turistico di cui avevo detto prima, al villaggio turistico che è in Calabria, nella zona di Brancaleone, a Reggio Calabria. Proseguiamo con la rassegna politica e inchieste. Appalti indagati tre assessori regionali, Pepe, Sclocco e Paolucci, sono accusati di falso. Poi ancora, in basso, opera a carico della Regione, ieri è uscito fuori appunto questo quarto filone, per 1,2 milioni, a tanto a Montalonere di spesa per la riqualificazione del parco, finanziato coi fondi del Masterplan. Poi ancora, l'intervento. D'Alfonso, piena fiducia nell'azione dei magistrati, il governatore in Consiglio regionale, le indagini certificheranno il lavoro svolto, contento per la proroga delle indagini, così ci sarà un ulteriore approfondimento. Ieri nell'aula consigliare del Comune di Pescara, il primo discorso pubblico del Presidente sull'inchiesta della Procura dell'Aquila, che lo vede indagato. Il numero uno della Giunta si è detto, certo, è sicuro di riuscire a provare la sua estranità, anche perché tutto il lavoro fatto in Regione è videoregistrato. Allora, eravamo presenti con la nostra Camera ieri in Consiglio regionale, nella seduta che si è tenuta a Pescara con il Presidente D'Alfonso, che appunto ha riferito di questa inchiesta, che lo vede come indagato. Vediamo. Il governatore d'Abruzzo ha riferito in Consiglio regionale sulle vicende che lo vedono coinvolto in due dei tre finori di indagine dell'inchiesta della Procura della Repubblica di L'Aquila su appalti pubblici. Questa mattina è stato suo il primo intervento in Consiglio, in cui ha ricostruito, punto per punto, tutti i documenti che lo vedono coinvolto e le carte in suo possesso, che dimostrano le straneità e i fatti, annunciando da subito la sua intenzione a non fermare l'attività gestionale e proseguire il suo impegno decisionale senza esitazione. C'è una parte di comunicazione che mi trattengo, perché la voglio versare in atti nel momento in cui si verificherà il confronto che io mi auguro si verifichi al più presto. E non sarà una partita tra sfidanti, collega Gerosolo. Farò l'impossibile affinché il mio carattere, che è un carattere diciamo che raccoglie il senso della sfida, non si ponga in essere perché non c'è la sfida e non c'è la partita e non c'è l'antagonismo. C'è soltanto la normale attività di un ufficio della pubblica amministrazione e che è un ruolo costituzionale di capire se per esempio alcune denunce, perché ci sono state alcune denunce, hanno un moradicamento, dignità, legittimazione. Naturalmente non mi fermo nell'attività decisionale. Io alle case delle GESCAL ci andrò a prendere le misure dei bisogni di intervento. Così come continuerò la mia attività con lo stesso carico di energia, di robustezza contro i problemi che ho sempre distigato. Ci sono meccanismi che puntano a scavalcare procedure? Una critica politica lo può sollevare, l'autorità giudiziaria lo può verificare. E' certo che la rilettura delle sue attività, compiute e testimoniate da documenti e registrazioni, possa dimostrare l'idoneità dell'operato e annuncia dal suo scranno che nessuno interpreti quest'indagine come una partita tra sfidanti poiché ne resterebbe deluso. Un ringraziamento poi lo rivolge alle forze dell'ordine che nel compiere il blitz alla Regione hanno mostrato quella che lui definisce costumatezza dei modi. Io non vorrei che qualcuno scommetta troppo su questo, perché i due mila giorni passano anche per quest'altro costumido. Quindi sia certo, sono pronto a tutte le critiche, tutte critiche politiche che poi si traducono nella continuazione della lotta politica in altra sede. Però si parta con questo assunto. Io coltivo solo interessi pubblici. Ora le pagine dell'Abruzzo, pagina 12 in particolare, pagina 12 e 13, i veleni di bussi nella discarica dove la bonifica è a rischio, la gara da 40 milioni a un bivio ma l'apertura delle buste è slitta, il polo chimico aspetta, i lavori ora è diviso tra un paese disabitato e fabbriche che resistono. L'appalto dei ritardi, ecco i quattro nodi irrisolti, procedura iniziata nel 2015, non ancora conclusa, attesa per la decisione sul funzionario indagato. E poi ancora, leggiamo a pagina 13 in basso, quanti bagni sotto i rifiuti tossici. Il sindaco da Ragazzini ci tuffavamo in uno scarico, ora conta solo la bonifica. E poi ancora le aree sorvee inquinate dovrebbero passare al comune, il ministero tratta. Tornando al Consiglio regionale di ieri a Pescara, via libera unanime alla commissione d'inchiesta, arriva l'ok del Consiglio regionale alla richiesta del Movimento 5 Stelle, Marcozzi e gli abruzzesi ci chiedono di fare chiarezza su quanto accaduto. Approvata anche la risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere l'allargamento del cratere sismico, il documento condiviso è stato sottoscritto da tutti i capigruppo. E poi ancora Enel in Denizi Extra, chi ne ha diritto e come richiederli. Avanti ancora con le pagine della cronaca di Pescara. La costa da salvare, il mare sarà più pulito tra un anno e mezzo. Del Vecchio annuncia i lavori per migliorare la qualità delle acque sul litorale, potenzieremo il depuratore di Via Raiale, ma i tempi non saranno brevi. E poi ancora l'anno scorso divieti per 40 giorni lungo due chilometri di litorale. Le reazioni, i bagnatori sulle spine, un'altra estate nera. Gli operatori aspettano di essere convocati dal Comune. Vogliamo sapere come affrontare la stagione e che fine. Hanno fatto i lavori annunciati per l'apertura della Liga Foranea. Ci dicano qual è il piano di marketing e quali sono gli eventi pianificati. Noi siamo pronti a fare la nostra parte. Alcune delle reazioni, qui vediamo le foto di due imprenditori, di due balneatori, come Riccardo Padovano e Stefano Cardelli. La tragedia di Rigopiano, una valanga prevedibile. La colpa è della Regione. I legali del Comune e del Sindaco di Farindola vogliamo soltanto la verità. L'Abruzzo non si è mai dotato della carta di localizzazione dei rischi da Slavina. Poi in taglio medio leggiamo così abbiamo salvato i tre bimbi. Il commovente ricordo dei vigili del fuoco entrati nella sala biliardo dell'hotel. Davanti alla telecamera di colpo due occhietti che si illuminano. E Ludovica, la piccola, tiene per mano Edoardo e Samuel. Tutti e tre cominciano a ballare. Poi ancora liceo scientifico. Su il caso, ipotesi caserma di cocco per i ragazzi del Da Vinci. L'immobile ceduto dal Ministero della Difesa al Comune necessita di interventi. 240 studenti ospiti del Classico rischiano di restare senza sede a settembre. Poi controlli del NAS nei bar delle scuole. Sequestri e multe dopo le segnalazioni dei genitori. A Fontanelle dorme sul divano in camera da letto. Piove dal soffitto. I residenti di via caduti per servizio costretti a vivere tra muffe, infiltrazioni d'acqua, topi e ascensori pericolanti. Poi ancora migranti. Entro oggi il sì dei comuni all'accoglienza. Scade il termine per annunciare alla Prefettura la volontà di aderire allo Sprar. Forza Italia invita i sindaci a rifiutare. Serve aiuto per l'emergenza maltempo. Saltiamo per ora le pagine dello sport. Andiamo alla cronaca Francavilla. Palazzo Sirena bocciato. Lo stop alla demolizione. Il Consiglio Comunale vota contro la mozione della minoranza. Escluso anche il referendum. Luciani, la legge non ci vieta l'abbattimento. Poi a Montesilvano, semaforo trappola in fila a pagare le multe. Ci sentiamo truffati. Viaggio tra i cittadini imbuffaliti in coda al comando dei vigili urbani. Un'anziana dice che ha una contravvenzione di 160 euro e una pensione. di 480. Rifiuti differenziati a Città Sant'Angelo. Arrivano i rimborsi. Il Comune premia chi ha portato plastica e vetro all'ecocentro di piano di sacco. Pronte cifre fino a 60 euro. E siamo alle pagine aquilane. Verso le comunali. Sondaggio del PD. Ecco i retroscena. Pietrucci prevale tra gli under 50. Lolli tra gli over. Di Benedetto terzo perché è il meno conosciuto. E poi ancora la ricostruzione delle frazioni è ferma al palo. Due movimenti civici. E noi con Salvini attaccano la giunta. Il sindaco Cialente ha sfrattato 43 famiglie di Arischia. Abbiamo realizzato un servizio con la nostra redazione aquilana. Frazioni abbandonate a se stesse dopo 8 anni dal sisma. E ricostruzione pesante mai partita. Fatti che dimostrano la completa incapacità e responsabilità dell'amministrazione comunale di centro-sinistra. È la denuncia del salviniano e candidato sindaco alle prossime elezioni Luigi Deramo. Emblematica poi la situazione di Arischia. Dove 43 famiglie hanno dovuto abbandonare il centro storico. Queste famiglie non sono state sufficientemente considerate. Bisogna necessariamente procedere all'abbattimento degli edifici pericolanti. E lo si sta facendo con delle procedure che presentano profili di legittimità. E soprattutto ancora una volta scaricando la responsabilità sui presidenti di consorzio. Perché dovrebbero essere costoro, utilizzando i fondi per la ricostruzione assegnati ai consorsi stessi, a dover procedere agli abbattimenti. Quindi ancora una volta questa amministrazione se ne lava le mani. Non riesce a dare una tempistica certa per far rientrare queste 43 famiglie. Accanto a Deramo anche la quella futura con Antonio Pensa, che ha voluto sottolineare la situazione di Roio e dell'università. Anche quella una zona completamente abbandonata. E soprattutto anche per quanto riguarda la situazione università, quindi Roio, che nonostante ospiti una delle facoltà più prestigiose d'Italia, si ritrova ad essere in completo disagio e nonostante potrebbe aspirare ad avere una considerazione molto più importante. Presente in conferenza stampa anche Giancarlo Silveri, ex manager dell'ASD dell'Aquila, del Movimento Riscatto Popolare. Prove di dialogo con i salviniani in vista delle prossime amministrative? I due rispondono così. Noi siamo un'aggregazione civica che ha detto che è aperta a collaborare con tutti quelli che sono alternativi al PD. Specie soprattutto sui temi che riguardano la città e i cittadini. Questo è un tema che riguarda la città e i cittadini. Noi ci siamo pronti, assolutamente pronti, a far valere le ragioni di chi poi viene messo da una parte da una gestione che è assurda, vergognosa, incomprensibile. Io ho detto già che le primarie non sono d'accordo, peraltro un'aggregazione civica che si mette a fare le primarie con i partiti non ha senso, quindi no. No, non c'è nessuna alleanza di natura politica, c'è la condivisione per trattare un argomento che riteniamo fondamentale e importante per la città dell'Aquila. Le pagine ora di Terramo e Chieti del centro, prima di chiudere la prima parte, ecco qui le pagine Terramale, Terremoto e Futuro, le forze del territorio compatte per rialzarci, servono aiuti. In 120 l'incontro tra politica e mondo del lavoro per fare il punto su necessità e richieste. Tutti aderiscono alla manifestazione del 2 marzo a Montecitorio, anche la CGL darà il suo appoggio. Poi ancora Errani, tutte le scuole dovranno essere adeguate, il commissario della ricostruzione chiede al comune un piano per portare l'indice di resistenza degli edifici al massimo e entro dieci giorni l'ok ai nuovi poli. E poi ancora, pagina di Chieti, rapina a Rocca San Giovanni, banditi ripresi mentre assaltano Sarni, colpo da 200 mila euro alla gioielleria del centro commerciale Poli Center, ma un passante filma tutto con il cellulare. E poi in basso per il lì, umbe, ci metto la faccia, inchiesta a Megalo 3 nelle intercettazioni e l'assicurazione al sindaco di Primio dell'amico imprenditore. Ci fermiamo per la prima parte di mattino 6, ora spazio alle previsioni del tempo e poi alla pubblicità, quindi la seconda parte. Di nuovo buongiorno, seconda parte di mattino 6, che iniziamo con il messaggero Abruzzo, da Alfonso in consiglio. Tutto il mio lavoro è stato videoregistrato, il Presidente, strane coincidenze, e dimostrerò che sono pulito. Tra gli episodi contestati spunta una riqualificazione a Lanciano. E appunto gli assessori Paolucci e Pepe Sclocco indagati per il parco Villa delle Rosi. I provvedimenti del quarto e più recente filone giudiziario saranno notificati nelle prossime ore. Poi ancora, la cronaca di Pescara, l'Andrangheta punta su Pescara, investiti in bar e sale giochi, profitti del traffico di cocaina, sgominata la cellula calabrese guidata dal boss Simone Cuppari, da Francavilla l'assalto all'area metropolitana, quattro esponenti della mala locale tra i 19 arrestati dai carabinieri. Associazione mafiosa, tentato omicidio, spaccio, usura e distorsione, le accuse contestate dalla Didia dell'Aquila. Poi in basso, bombe, colpi di pistole e roghi, la dora legge dei calabresi, di questi ho paura, mi bruceranno il negozio. Le vittime descrivono il clima di terrore imposto dall'organizzazione. Sempre a Pescara il cantiere infinito della Pascoli, zero certezze sul rientro, il ritardo dei lavori, lo stop per il maltempo e le lungaggini del collaudo, rendono incerto il ritorno in classe di 300 alunni. Avanti ancora, e siamo a Farindola, il sindaco accusa la regione, un pool di tecnici e avvocati svolgerà indagini difensive sulla tragedia di Enrico Piano per conto del sindaco Lacchetta, dito puntato sull'assenza della carta sul pericolo valanghe, obbligatoria dal 1992. Sullo stesso filone indaga la forestale. Allora, su questa vicenda abbiamo realizzato un servizio, eravamo presenti al comune di Farindola per questa conferenza. Sono stati affidati agli avvocati Massimo Manieri, Cristiana Valentini e Goffredo Datozzi le indagini per salvaguardare l'immagine della comunità di Farindola e del sindaco Ilario Lacchetta. Questi ultimi si sono avvalsi di un pool di esperti volontari per esaminare tutti i processi valanghivi fino alla strage dell'hotel Enrico Piano. Crediamo profondamente nel fatto che, ripeto, per determinati tipi di processi non ci debba essere una segretazione. Comunque noi l'abbiamo fatto per incarico esplicito, firmato, del sindaco Lacchetta, il quale ci ha chiesto, ma anche il comune, in qualità di persona offesa del reato di disastro colposo, ci hanno chiesto di indagare a 360 gradi il codice di procedura penale lo prevede e noi lo abbiamo fatto. La valanga era scientificamente prevedibile e avrebbe potuto essere prevista se solo la Regione avesse fatto la carta di localizzazione dei pericoli da valanga, la CLPV, che era obbligatoria dal 1992. Noi abbiamo provato a realizzarne una, così in poco tempo, e i risultati sono quelli che sono sotto gli occhi di tutti che avete visto stamattina, che ognuno può controllare come vuole. I risultati chiaramente non presi dalla persona che va su Google Earth, come dicevo, ma da chi ha accesso in modo professionale ai satelliti e dalla ripresa via satellite era evidente quello che avete visto, ovvero che quella zona lì era effettivamente balanghiva. Si vedeva solo da satellite, solo grazie a un esperto, quell'esperto che avrebbe dovuto realizzare la CLPV regionale dal 1992. Certamente sì, lo dice la carta storica regionale che riporta in quella localizzazione diversi eventi, non quello che purtroppo si è verificato il 18 di gennaio, però con uno studio cartografico, prima di tutto, e poi di iniziale approfondimento sul posto, era prevedibile localizzare nel sito della valanga di Rigopiano un'attività balanghiva anche di una certa importanza. Questo per considerazioni di carattere morfologico, ci sono nella zona di distacco pendenze molto accentuate e anche per considerazioni di carattere valanghivo che un esperto di questa materia fa con relativa facilità. Servizio realizzato dalla redazione di Vestina News. E ora proseguiamo con le pagine aquilane del messaggero Abruzzo. Scelta del candidato del PD, scontro aperto sui social. Pietrucci colpito dal fuoco incrociato pubblica il quadro la restaurazione di Benedetto Replica con il Buon Governo e di Stefano Sarcastico con il quarto Stato. Fabio Regneri, presidente dell'Assemblea Provinciale, benvengano le primarie se servono alla coalizione, ma non per risolvere i problemi del partito. Poi se Giovia Rotta, Gran Sasso in agonia, fontari al limite dello stress da utilizzo necessario e ora controlli giornalieri da parte dei tecnici della stazione Giuliani. Speriamo di riaprire nella giornata di giovedì. A breve partiranno i lavori per realizzare i nuovi impianti. L'Iris di Forza Italia attacca, amministrazione disastrosa. Chiedo pietà per gli aquilani. E poi corte d'appello, la prima donna dopo oltre 150 anni, il significativo primato del 55esimo presidente Fabrizia Franca Bandera. Avanti ancora con la pagina della Marsica Santa Croce. Sequestrati 20 milioni a Colella, contestata la frode fiscale, la misura cautelare disposta dopo una complessa attività di investigazione economico-finanziaria delle fiamme gialle. Si sospetta la sottrazione delle imposte IRE-Sira per i tenuti alla fonte relative agli anni, dal 2008 al 2013. A Chieti, scala mobile chiusa, regna il degrado. Lo stop dura da oltre un mese. Dopo i danni del maltempo, la strada a valle dell'impianto invasa da rifiuti di ogni genere. Per la riapertura tra pezzi di ricambio in arrivo e collaudi mancano giorni al disagio degli utenti. Si somma l'emergenza. L'effetto, combinato con frane e voragini, ha portato alla luce la discarica abusiva lungo l'itinerario alternativo. E poi ancora sindaci, prefettura, patto per la sicurezza. I comuni maggiori sicurano il protocollo, coinvolti gli istituti di vigilanza per la prevenzione dei crimini notturni. davanti ancora sarni oro. I rapinatori spaccano le vetrine davanti alle commesse. Un colpo da 200 mila euro, durato poco più di un minuto. Il terrore nell'oreficeria, la caccia all'uomo della polizia. È successo ieri alle 12.30 al tema Polisenter di Rocca San Giovanni. Sapevano bene cosa portare via. E poi a Lanciano, Lorenzo Facci un gol. Asl condannata per le spese mediche non risarcite. Il giovane sconfitto dalla leucemia affrontò cure negli Stati Uniti. Il giudice dispone ora il rimborso dei costi. Avanti ancora con la pagina di Teramo. Calamità, la protesta raddoppia. Manifestazione anche al casello. Il 2 marzo un'iniziativa a Montecitorio dei sindaci dei comuni più danneggiati. Intanto si sta organizzando un corteo con presidio all'uscita dell'autostrada. Provincia e municipi in pressing sul Parlamento per ottenere risarcimenti adeguati. Territori in ginocchio. Bisogna intervenire sulle cause che hanno provocato disastri e non soltanto sugli effetti. Le parole del sindaco di Teramo, Brucchi, non bastano i 100 euro in bolletta. Il sindaco in Parlamento ha muso duro contro l'Enel, vertice con Errani sui poli scolastici. Poi ancora sulla costa il palazzo contestato è ora tra i più belli. Giulianova, la ditta Michele Di Fernando, ottiene il riconoscimento UE dello stabile di Via Gramsci su progetto dell'architetto Vaccarini. Al suo sorgere si parlò di sfregio per il centro storico. La proprietà si adeguò alle direttive del piano regolatore. Lasciamo il messaggero Abruzzo e approdiamo ora alla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Andiamo a leggere all'interno. D'Alfonso ha scelto un teramano alla guida dell'ufficio ricostruzione. Marcello D'Alberto, ingegnere capo del comune di Pineto, l'ha spuntata tra i 22 curricula presentati in regione. è privilegiata la scelta di un tecnico alla guida dell'importante ufficio che gestirà pratiche e strategie post terremoto. L'emergenza, Teramo non si accontenterà di semplici promesse, audizioni in Parlamento per il sindaco Brucchi in serata l'incontro in Ateneo prima della manifestazione a Roma. Poi quello allo stadio sarà pagato, si parla in questo caso come leggiamo di poli scolastici, quello allo stadio sarà pagato dalla protezione civile, quello all'acqua viva in parte anche dalla regione, per quello alla San Giuseppe occorre trovare dei finanziamenti. E poi ancora la vita dei nostri figli non può restare appesa agli indici di vulnerabilità. Il comitato scuole sicure incontra e si appella a Save the Children. Il cratere sismico va verso l'allargamento. Il Consiglio regionale approva la mozione che impegna D'Alfonso a chiedere l'ingresso della valle siciliana. E poi ancora il PD chiede di inserire Teramo a tutti gli effetti. È rinviata la discussione sul caso Verna e il direttivo si discute di come rilanciare il capoluogo. Dopo le emergenze, avanti ancora, emergenza a casa tra abusi, occupazioni e degrado. La polizia sgombera una casa popolare a Fonte Baiano in Via Longo, infiltrazioni nelle palazzine rioccupate. Siamo alle notizie dalla provincia di Teramo. A Ponzano la terra si è spostata di otto metri. Dalla prima mappatura della zona emerge un quadro drammatico. Il sindaco chiede aiuto allo Stato. È sollecitata dal sindaco di Campi quaresimale. La senatrice Stefania Pezzopane ha presentato un'interrogazione per sollecitare il governo a prendere provvedimenti urgenti e a stanziare le risorse necessarie per fare fronte al dissesto idrogeologico abruzzese. C'è anche l'appello. I cittadini di Ponzano hanno gli stessi problemi, la stessa dignità di quelli colpiti dal terremoto, dice il sindaco di Civitella, Cristina Di Pietro. E poi ancora a Santomero morto a 14 anni per la diagnosi sbagliata. La procura chiede il processo per due medici. Lorenzo Panichi morì dopo le dimissioni per la rottura della orta. Omicidio colposo, l'ipotesi di reato formulata nei confronti di Angelo Flavio Mucciconi e Maria Antonia di Giandomenico. Avanti ancora a Giulianova il maltempo è costato 200 mila euro. Conto salato per le somme urgenze affrontate dal comune di Giulianova per lo spazzamento e lo spargimento del sale. Il comune ha speso circa 11.800 euro. A Roseto il ruzzo deve restituire la cauzione per Rosaria Ciancaione. Le famiglie non sono obbligate al suo pagamento. Nella mozione si chiede anche di abbassare le tariffe del servizio idrico alle fasce più deboli. Poi in basso Pineto ha chiesto il processo per la morte di Marco Calabretta. La procura firma l'imputazione coatta nei confronti del medico del 118 che lo ha soccorso. Andiamo nelle pagine dello Sport contro il Pordenone. Pordenone per la rimonta salvezza. Teramo in campo alle 14.30 per il recupero della terza giornata. Ugo Lotti spero nella crescita della squadra. Spighi non convocato ancora fuori l'ex Spal che non ha recuperato dall'infortunio. Davanti il tridente con Tempesti e Petrella. Dubbio per l'attaccante centrale con Barbuti favorito su Sansovini. L'avversario, ovvero il Pordenone, l'attacco atomico con Armae e Berrettoni fa davvero molta paura. La squadra di Tedino però è in una fase di leggera flessione, soprattutto lontano dalle mura amiche. Noi abbiamo introdotto la pagina dello Sport. Prima di tornare sul centro del Messaggero vediamo la Gazzetta dello Sport che in prima pagina posta un titolo che si riferisce a Zdenek Zeman. L'allenatore Boemo è tornato la settimana scorsa ad allenare il Pescara che ha debuttato con un'incredibile vittoria per 5-0 sul Genoa. Allora, questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Vedete sotto la testata la coscienza di Zeman. Intervista esclusiva, vizi, passioni e virtù di un tecnico mai banale. Da Verratti a Trump, dal doping alla Cina fino alla scommessa Pescara. Vi racconto il mio calcio, tutto gioia e gradoni. L'idea Cassano, mai dire mai. Poi il resto della prima pagina con il titolo d'apertura. Bonucci 6 fuori, Champions, vigilia degli ottavi rovente per la Juve. Allegri punisce il difensore in tribuna stasera con il Porto. E poi di spalla leggiamo in presa Pep un 5-3 show al Monaco. E il Ciolo va con la vittoria dell'Atletico 4-2 in casa del Bayer Leverkusen. Oggi tocca anche a Ranieri con il suo Leister impegnato contro il Siviglia. Andiamo allora all'interno della gazzetta a trovare la due pagine dedicata all'intervista in esclusiva a Zeman. Probabilmente l'abbiamo saltata, quindi torniamo indietro per cercare questa intervista. Eccola qui. Zeman, il mio calcio, gioia e gradoni. L'idea Cassano, mai dire mai. Il profeta è tornato con una goleada che ha ridato speranza al Pescara. Lo incontriamo e ci parla di tutto. Da Verratti a Trump, da Nesta a Caprari, dal doping alla Cina. E poi ancora i dieci comandamenti. Dalla dieta alle ripetute, le regole per resistere al Boemo. L'allenatore impone obblighi precisi durante il campionato. E anche nei ritiri estivi come i tuffi nell'acqua gelida. E poi ancora dobbiamo sperare, se sperano Palermo e Crotone. C'è una foto di Alberto Cerri che ha segnato il suo primo gol in Serie A domenica scorsa contro il Genoa. La Mela, Marchini e il Seosvaldo furono venduti bene. L'argomento in questo caso le plus valenze alla Roma. Poi i giocatori più miei, signori Nesta e Verratti, che vedo al Barca. E poi Trump per ora mi incuriosisce, mi piacerebbe intervistarlo. Dice questo Zeman sul neopresidente degli Stati Uniti d'America. Dunque questa intervista esclusiva sulla Gazzetta dello Sport. Ma chiaramente Zeman trova ampio spazio anche sui quotidiani locali. Allora torniamo alle pagine dello Sport del centro. Con questo inserto speciale all'interno, verso mille panchine, Zemanlandia è sempre di moda. Tante sono le presenze del 1983 tra i professionisti. In pochi giorni il Boemo ha risvegliato Pescara. E poi Zemanlandia tutto fa spettacolo. Da Licata a Pescara la storia del Boemo non è ancora finita. A quasi 70 anni l'icona del calcio spettacolo è pronto a tagliare il traguardo delle mille panchine in carriera. Poi c'è un ampio articolo firmato dai colleghi Luigi Di Marzio e Giovanni Tontodonati per ripercorrere le varie ere di Zeman. Avanti ancora, siamo all'attualità. Corsa, sudore e gradoni. Zeman mette tutti in riga. Primo vero allenamento del Boemo che ha fatto lavorare i biancazzurri a sondi ripetuti. Esercizi e balze in tribuna. Sdengo osannato dai tifosi. Circa 500 presenti alla ripresa dei lavori. Il tecnico, la vera star fuori dal campo. Parlano di lui anche in Cina e in Brasile. Vediamo anche sul messaggero Abruzzo, prima di vedere il servizio. Ecco qui Pescara. Ecco la cura Zeman sul messaggero. Tutti al lavoro con scarpe da ginestica e abbigliamento leggero. 500 tifosi assistono al primo test atletico del Boemo. Il tecnico è tenuto a rapporto i giocatori per mezz'ora. Niente schemi o partitine. Gran finale con gli addominali. E allora andiamo a vedere il servizio realizzato ieri dalla nostra redazione con le immagini degli allenamenti anche sui gradoni. È arrivato anche il momento dei gradoni per i giocatori del Pescara. Zdenek Zeman lo aveva affermato davanti alle telecamere di Premium domenica scorsa. Da martedì si comincia a lavorare sul serio e stimolato dai colleghi aveva parlato di mille metri e gradoni. Il Boemo è stato di parola così in questo martedì di ripresa degli allenamenti. Prima ha diviso i giocatori in due gruppi ordinando i giri di campo sotto lo sguardo di almeno 200 tifosi che si sono assiepati sulle gradinate del campo del Poggio degli Olivi. Dopodiché sulla tribuna sono saliti gli steward che hanno chiesto ai tifosi di liberare metà della gradinata per permettere ai calciatori di fare gli esercizi sui gradoni. Zeman e i fidi Cangelosi e Ferola hanno messo sotto torchio i calciatori biancazzurri ma in un clima di rinnovata fiducia ed entusiasmo generati dalla goleada rifilata al Genoa. Il 5-0 dell'adriatico Cornacchia ha restituito nuova linfa ad un ambiente che si era depresso e si stava rassegnando alla retrocessione ma che ora confida nelle cure del tecnico Boemo per una sfida all'apparenza ai limiti dell'impossibile. Le prossime tre partite potranno chiarire se il Delfino può rimettere in piedi la rimonta a salvezza. E' appena iniziata la settimana di lavoro che porterà alla trasferta di domenica prossima al Bentegodi di Verona contro il Chievo. Ancora lavoro differenziato per Campagnaro, Girardino e Baibach, assenti Biraghi e Caprari impegnati nello stage della Nazionale a Coverciano. Zeman li riavrà a disposizione da giovedì. Presenti tutti gli altri compreso un Bovo che avanza la sua candidatura per la prossima partita anche se scalzare qualche giocatore dall'undici che ha sgretolato il Genoa non sarà facile. E mentre i biancazzurri hanno sudato, il Chievo, che si è allenato subito, 24 ore dopo la sconfitta interna con Napoli, ha trascorso un martedì di riposo e riprenderà a lavorare con la doppia seduta del mercoledì. Intanto il giudice sportivo ha combinato 5.000 euro di ammenda alla società clivense per cori di insulto dei tifosi verso quelli avversari. Domenica scorsa nessun provvedimento disciplinare o multa per il Delfino. Sempre sul messaggero, basket di A2, Proger stasera match di lusso contro la Fortitudo. Si gioca alle 21 in diretta su Sky, patron di Cosmo fa indossare una maglia speciale, occhi su De Cosi. E poi ancora Teramo col tridente per uscire dal tunnel, Ugolotti inserisce Barbuti titolare, Sansomini parte dalla panchina, avvicinamento in mediana con Tempesti, Spighi non convocato. Poi Serie D, l'Aquila, il DS Battisti, striglia la squadra dopo il pareggio inopinato col Città di Castello di domenica scorsa. Ciclismo, bagno di folla per gli azzurri paralimpici a Pineto. Per la promozione il Giulianova col Tossicia, spera nella fuga. In basso, Sharks, il veterano Giovanni Fattori, uomo chiave quando entra sul parquet. Torniamo al centro per vedere le altre pagine dello sport. Ecco qui per la Lega Pro, Ugolotti lancia il Teramo all'assalto, avanti senza paura. Il tecnico chiede un maggior sostegno all'attacco contro il Pordenone, quinto in classifica nel girone B. Andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Biancorosso in conferenza stampa. Io mi aspetto che alcune situazioni in cui sono stati un po' timorosi, questo timore vada via. Abbiamo di fronte un avversario che sicuramente ci metterà in difficoltà. Io voglio vedere l'attenzione, voglio vedere la grinta che hanno messo l'altro giorno. Cercando di migliorare alcune cose, dobbiamo cercare un attimino di andare a crearci qualche situazione un pochettino più favorevole. L'ultima partita sono state poche le situazioni, dobbiamo crederci un pochettino di più in determinate situazioni, andarle a cercare. Sicuramente è dell'avversario che andiamo a affrontare una delle squadre più forti di questo campionato, una di quelle che è sempre rimasta lì davanti, hanno grande potenziale, hanno grande qualità. Di conseguenza mi aspetto dai miei una buona partita, una crescita, da un punto di vista dell'intensità, da un punto di vista dell'attenzione, sapendo che di fronte abbiamo un avversario che ci può creare delle difficoltà. Perché è un avversario che nelle partite che ho visto difficilmente ha subito la squadra avversaria. È una squadra che cerca di impostare l'azione, è una squadra che cerca alla sua personalità, è una squadra costruita, torno a ripetere, con buonissimi elementi di qualità e di conseguenza dovremo avere molta, ma molta attenzione. Sicuramente qualche d'uno che ha giocato l'altro giorno sicuramente non giocherà, ma non è una bocciatura, non è assolutamente, è per tenere tutti sulla corda, perché torno a ripetere, specialmente in determinati ruoli dietro, siamo tanti, tutti molto validi, di conseguenza può darsi che sicuramente qualche cambio andrà fatto. Chiudiamo sul centro, Serie D, Paris cerca nuovi soci per l'Avezzano, il patrone incontra a pranzo un imprenditore di Tagliacozzo e poi per il basket di A2, la Proger sfida un pezzo di storia nel 79 amichevole della Virtus Bologna a Chieti, stasera ore 21, prima sfida ufficiale in casa delle Furie contro la Capolista. Noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa di mattino 6, vi ricordo gli appuntamenti con i nostri notiziari alle ore 14 alle 19 e alle 23, grazie a Claudio Di Giacomo in regia e a voi per la cortese attenzione. Buona giornata. Grazie a tutti.